E' tempo di riaccendere i motori in casa Delfe e Savellino. Sul mercato manca un tassello, un esterno under. Tra i profili variatici anche Christian Di Giulio e Maria. Dalla sua, coach Giovanni Benedetto vorrebbe un elemento di arrendimento assicurato così come è accaduto nel ruolo di play. E' il caso di Vitale con Arienti. Quest'ultimo nei prossimi giorni si sottoporrà a visite mediche accurate dopo l'infortunio della passata stagione con Ischia. I test di litro di Arienti dunque faranno da prevista per i vari testerati che faranno tappa in il Pignà nelle prossime settimane. Il raduno da parte del roster bianco-verde è in programma per dopo Ferragosso. Primo allenamento per il 18. Benedetto è chiaro, vuole le sue 6 settimane di lavoro. Tecnico e lavoro con lo staff per organizzare anche i canonici scrimmage. L'esordio ufficiale è previsto per il prossimo 11 settembre contro Caserta al Del Mauro per la Supercoppa LND. Società che lavora anche sul fronte settore giovanile. Nelle giornate del 27, 28, 29 luglio si terrà una leva giovanile per le categorie Under 17, 2006, 2007 e Under 15, 2008. Gli allenamenti si svolgeranno tutti alla Country Sport di Picarelli. Grazie. Grazie. Grazie.